Buongiorno ed eccoci allo spazio dedicato allo sport in questo inizio di settimana che ci propone un grandissimo appuntamento per Francia 2016 perché questa sera alle 18 si affronteranno Italia e Spagna agli ottavi di finale in un tabellone definito dai più, un tabellone pazzo di questi europei che ha messo nella parte destra di fronte squadre importanti che potenzialmente possono arrivare tutte fino in fondo ma che devono scontrarsi tra di loro con un tabellone più morbido nella parte sinistra ma il calcio è questo e in queste competizioni chi vuole arrivare fino in fondo deve comunque vincere tutte le partite ed ora in avanti e saranno chiamati a farlo Italia e Spagna questa sera a partire dalle 18 uno scontro che ci riporta in mente anche quello del 2012 nella finalissima del precedente europeo che ci vide sconfitti per 4 a 0 ma con orgoglio ci vide essere anche l'unica squadra in grado di mettere in difficoltà le furie rosse che all'epoca erano sicuramente la squadra più forte al mondo in circolazione adesso la situazione è un po' cambiata, la Spagna resta comunque una squadra fortissima ma l'Italia ha dimostrato di potessera sicuramente giocare ma andiamo a leggere sui giornali oggi che cosa si scrive sia in merito alla nazionale che è l'argomento naturalmente più trattato dai quotidiani sportivi ma anche dalle pagine sportive dei quotidiani locali sia naturalmente sull'Udinese che poi è l'argomento che maggiormente interessa a noi nelle nostre rassegne stampa sulla prima pagina del messaggero abbiamo due riferimenti allo sport uno è proprio sulla nazionale con il taglio basso centrale vai Italia con le furie rosse serve l'impresa al 18 la sfida che vale i quarti di finale il collega Stefano Tamburini scrive fra noi e loro non è mai un incrocio semplice loro gli spagnoli ultimamente quasi invincibili quelli del triplete europeo mondiale europeo fra 2008 e 2012 hanno preso lo slancio proprio contro gli azzurri ad Euro 2008 quel giorno riuscirono a sfatare la maledizione che li vedeva sempre nelle vesti di grande incompiuta però sarebbe davvero carino togliersi la soddisfazione di battere la Spagna che resta comunque una delle grandi favorite in alto invece sopra la testata si parla dell'udinese del mercato con la possibilità che Zapata resti a Udini il colombiano dovrebbe restare scrive il messaggero e questo per partire ad inizio anno con un attacco ben definito e con un Zapata che dopo aver attraversato una stagione travagliata la precedente a causa del brutto infortunio corso nella gara contro il Bologna poi al rientro dopo una rieducazione di 4 mesi ha mostrato comunque di avere i numeri sia dal punto di vista realizzativo che dal punto di vista tecnico di come sta in campo per sostenere l'attacco bianco-nero nel migliore dei modi vedremo come procederà questa stagione ma intanto è arrivato anche Amadouil il calciatore belga dal campionato belga tunisino che ha 31 anni ma che ha già un'ottima esperienza alle spalle è anche lui supportato da numeri interessanti di gol realizzati nel campionato belga e se diciamo che il campionato belga, che il belgio attualmente è una delle favorite alla vittoria dell'europeo è una delle squadre che gioca il miglior calcio nel mondo è chiaro che il campionato belga è uno dei più difficili quindi un calciatore che ha 31 anni e arriva lì da 4 campionati in cui ha segnato tanto sicuramente può essere una garanzia poi Secomo Ahmed Fofanà, un altro dei colpi dell'Udinese e siamo in direttura d'arrivo anche per qualche altro arrivo che contiamo di ufficializzare a breve sul sito del club ma torniamo alla nazionale perché siamo qui con la prima dello sport del lunedì e intanto sopra la testata vi leggiamo appunto quello che è successo ieri con gli altri incontri dei ottavi di finale che hanno preso il via sabato ma Tereschi e Belgio senza problemi ieri nessun problema per queste due squadre che hanno superato le relative avversarie la Francia rimonta l'Irlanda e batte anche le sue paure una doppietta di Griezmann ha permesso alla Francia di dibattare il risultato che vedeva i transalpini sotto di un gol contro l'Irlanda mentre per quanto riguarda la Germania è arrivato il successo contro la Slovacchia anche in questo caso senza troppi patemi d'animo qui invece la situazione dell'Italia con una bella caricatura di Graziano Pellè l'attaccante azzurro che in veste di torero mata il toro naturalmente bisognerà farlo in campo sul serio la corrida di Parigi per matare la Spagna serve un'impresa Conte dice dobbiamo fare qualcosa di straordinario niente muro del tifo gli italiani saranno 15.000 un numero comunque considerevole per quanto riguarda i richiami a quello che leggeremo poi all'interno si parla di formazione con Florenzi e Desciglio che diventano decisivi e probabilmente scenderanno in campo dal primo minuto con Buffon che come sempre si presenta in conferenza stampa prepartita al fianco del commissario tecnico il capitano dice Morata mi spaventa parole anche molto interessanti di Buffon sulla gestione dell'emozione, dello stress, dell'attenzione di partite come queste Buffon ha detto l'esperienza aiuta a gestirle ma è sempre molto bello continuare a provare l'emozione l'ansia della partita che sta per arrivare di giocare questi grandi appuntamenti gli avversari, le idee di Del Bosch e Pallino sempre a noi puntano naturalmente sul tiki-taka sul possesso palla esasperato per mandare in tilti gli avversari e poi abbiamo il pronostico i campioni del 2006 vedono gli azzurri ma in questo caso è chiaro che i pronostici da parte nostra non possono che essere per l'Italia abbiamo sentito anche qualche pronostico degli spagnoli che naturalmente pronosticano la vittoria della Spagna ed è ovviamente così Florenzi e De Sciglio per battere la Spagna e ritrovare i tedeschi perché ci attende la Germania come vi dicevo nel tabellone pazzo l'Italia in caso di cammino lungo che chiaramente noi auspichiamo incontrerà prima la Germania ai quarti di finale ed in semifinale se la Francia passa il suo quarto di finale poi la Francia quindi sicuramente un cammino che porterà in ogni caso la squadra che arriverà in finale ad aver superato degli ostacoli molto molto duri Florenzi e De Sciglio per battere la Spagna ritrovare i tedeschi Candreva è infortunato sembrava potesse recuperare ma Conte preferisce due esterni difensivi e la rivincita della finale 2012 chi passa troverà la Germania Germania sempre molto solida sempre molto pericolosa i campioni del mondo vedono azzurro Pirlo dice ci temono Camoranesi va via in contropiede Cannavaro dice fuori il carattere queste le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti del grande successo di Berlino 2006 da quest'altra parte troviamo invece le parole del CT tra dubbi e proclami dobbiamo fare davvero qualcosa di straordinario Conte veste i panni del condottiero e chiede l'impresa se usiamo la ragione perdiamo l'ordinario non basta e qui vediamo due dei protagonisti dell'Italia ed è il brasiliano che veste la maglia azzurra e poi Pelle assegno con il belgio qui lo vediamo in basso l'attaccante azzurro che potrebbe essere sicuramente un'arma molto importante nella gara contro la difesa spagnola fatta anche di fisicità strategia vincente Conte dice sento parlare molto di difesa e del fatto che dobbiamo stare attenti a Morata hanno lito Fabregas e Iniesta calma possiamo anche attaccare giustamente dice Conte noi è vero che dobbiamo fare attenzione ma abbiamo qualche cartuccia da sparare ricetta del bosque pallino a noi il CT vuole che l'Italia si preoccupi delle furie rosse Morata dice sento la fiducia Morata che sta per lasciare il campionato italiano dopo aver fatto molto bene alla Juventus per lui c'è il Real Madrid pronto a raccogliere chissà se poi finirà da qualche altra parte o resterà nei Blancos ancora europei confessione di Buffon mi spaventa Morata uno da grandi gare la temibile Spagna non è solo l'ex Juventino ma Gigi è sicuro a volte neppure lui ha la consapevolezza di quanto sia forte è un giovane sicuramente molto interessante andiamo a vedere invece da quest'altra parte della lezione di calcio della Germania alla Slovacchia subito KO 3 a 0 trascinati da un Ruxler in gran giornata e da Ozil che ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto portare subito la partita sul 2 a 0 dopo la rete di Boateng i tedeschi hanno chiuso il match già nel primo tempo con Boateng e poi con Mario Gomez quindi sicuramente una partita dominata stravinta e nel finale poi il gol di Draxler lo spremio gol di Draxler che ha chiuso definitivamente la partita si è giocata anche la gara tra l'Ungheria ed il Belgio con il Belgio che ha rifilato 4 gol ai Maggiari una gara senza storia Belgio che non ha iniziato benissimo gli europei perdendo ricordate la gara contro l'Italia ma adesso ha ritrovato la sua compattezza il suo gioco le sue certezze ed è sicuramente tornata una delle favorite alla vittoria finale esame Islanda invece per l'Inghilterra di Roy Hogson il nostro quindi Alfredson oggi vedremo poi se scenderà in campo ma per lui c'è la possibilità di giocarsi questo ottavo di finale contro l'Inghilterra l'Islanda non è un cliente semplicissimo sarà durissima ha detto Roy Hogson Lagerbak dice ci siamo allenati sui rigori e Lagerbak è il tecnico dell'Islanda per quanto riguarda gli europei le pagine del messaggero terminano qui andiamo quindi a leggere dell'Udinese vi dicevo del mercato che impazza naturalmente ed è un Rebus Bomber con Udinese Zapata però che sono più vicini tanti nomi fatti e la Rabi Niang Babacar ma alla fine dovrebbe restare il colombiano qui vediamo anche la foto di Alberto Gilardino attaccante che ha giocato l'ultima stagione nel Palermo riuscendo nonostante una stagione non brillantissima a contribuire in maniera determinante alla salvezza del Palermo l'ultima ipotesi porta a Gilardino che ha anche offerte da Pescara e anche dal Parma Parma che giocherà in Lega Pro dopo aver ottenuto la promozione in Serie D con la nuova società che ha ripreso a far calcio dopo i disastri del Parma fallito in corso d'opera l'anno scorso a una settimana dall'inizio due anni fa a una settimana dall'inizio il ritiro tiene banco la scelta del centroavanti nella prima stagione che sarà senza Totò di Natale e di Natale ha ufficializzato il suo addio all'Udinese non sappiamo se sarà ancora un addio al calcio ma con la serata finale la grande festa dello stadio Friuli di Natale ha ufficializzato il suo saluto a Udine su Ewandro un calciatore brasiliano accostato insistentemente all'Udinese potrebbero esserci come dicevamo delle novità a breve eccolo qui in foto si esprime Marzo Amoroso che dice vede la porta quindi un bel biglietto da vista per questo ragazzo del San Paolo che è in attesa di essere ufficializzato da parte dell'Udinese e come dice il messaggero ci è venuto spontaneo chiedere a Marzo Amoroso il più grande giocatore verde-oro che abbia indossato la maglia bianconiera dopo Zico e lui ha detto l'ho visto giocare poco ha spiegato Amoroso da San Paolo ricordo di averlo visto all'opera nella Copa Juniores dal Sud America le referenze parlavano di una seconda punta Amoroso invece corregge e dice è più una prima punta di riferimento considerata l'età difetta ancora di esperienza quindi bisognerà dargli un po' di tempo per ambientarsi in un calcio molto diverso ma chi l'ha visto più di me all'opera mi assicura che ha qualità da finalizzatore insomma vede bene la porta e se lo dice lui possiamo sicuramente fidarci su questo non c'è dubbio qui vediamo un'azione di gioco dell'anno scorso con Vague impegnato in un duello con Niang Vague che purtroppo ha chiuso la stagione nella partita contro l'Atalanta lussandosi la spalla e per lui chiaramente una partenza ad handicap si sta allenando a casa in Francia con l'assistenza di un fisioterapista dell'Udinese per recuperare dall'infortunio alla spalla che lo ha costretto a subire un intervento chirurgico subito dopo quindi nel mese di maggio subito dopo la partita contro l'Atalanta continuiamo ancora con il messaggero per parlare anche ancora di di mercato in questo caso c'è un'intervista a Patrick Bastianelli un procuratore che parla della vicenda Verre dice la rinuncia è stata una sorpresa ma aggiunge anche a centrocampo c'è già un grande giovane talento e si chiama Balic è chiaro che anche sul caso Verre si è creata tutta una polemica ma sono delle scelte delle decisioni che partono che sono ponderate sicuramente non si effettua una rinuncia così a cuor leggero sono arrivati 4 milioni di euro per un giovane che ha fatto bene che ha fatto molto bene in serie B l'Udinese ha tanti giovani ancora nel suo roster da lanciare uno di questi è Balic come ha ricordato lo stesso Bastianelli ma come tutti quanti noi sappiamo e si sta costruendo anche un tipo di squadra che potrebbe dare delle soddisfazioni partendo proprio dai giovani tornando anche a quel concetto di squadra che va a pescare i suoi campioncini staremo a vedere certamente Iachini avrà di che lavorare quest'estate con il talento di molti ragazzi un talento riconosciuto ribadiamo ancora quello di Balic che potrebbe essere sicuramente una sorpresa del prossimo campionato nel nostro campionato italiano la scelta di Iachini Pozzo ha preso un tecnico preparato dice Bastianelli è con esperienza è un numero di sostanza che si troverà a suo agio nell'ambiente friulano il futuro di Bavacar parla anche di Bavacar che è un suo assistito se Zapata come sembra rimarrà non vedo fattibile un suo arrivo a Udine anche se l'ambiente sarebbe quello giusto è chiaro che Bavacar e Zapata sono due attaccanti dalle caratteristiche molto simili molto fisici molto bravi anche tecnicamente potenti sono entrambi con queste caratteristiche è ovvio che se rimane Zapata ad Udine è difficile ipotizzare che possa arrivare anche Bavacar qui vediamo invece alcuni scatti delle ultime settimane di vacanza dei calciatori bianconeri trova spazio anche Totò di Natale che è alle Maldive con la sua famiglia qui in questa bella foto con la moglie Ilenia a destra invece Silvan Widmer Santorini con la fidanzata Selin ultimi scampoli di vacanza poi da lunedì si riprenderà a lavorare tutti tranne Totò di Natale che può anche concedersi un supplemento di vacanza se vuole alle Maldive Widmer in Grecia Terroa Valencia dove va anche a trascorrere tempo con il figlio Felipe è in Calabria di Natale invece con la famiglia alle Maldive questo è un articolo che ripiloga un po' la mappa delle vacanze dei calciatori bianconeri lasciamo il messaggero andiamo sul gazzettino per leggere dell'Udinese c'è subito una foto notizia in apertura con mister Iachini che si gratta il naso perplesso ma è soltanto uno scatto perché c'è poco da essere perplessi il 4 si scende in campo e si lavora l'Udinese si prepara all'operazione tagli Iachini chiamato alle prime scelte si comincia a delineare il volto dell'Udinese affidata a Beppe Iachini per la stagione del rilancio ci saranno diversi tagli perché l'organico è sovradimensionato particolarmente affollato il centrocampo reparto dal quale si registrano anche partenze eccellenti per fare cassa andiamo a vedere invece in basso del Pordenone un bomber in nero verde Lega Pro arma è sempre più vicino ai Ramarri l'acquisto di Rashid Harma sembra indirittura finale come l'ufficializzazione dei rinnovi di Mirko Stefani e Andrea Ingegneri quindi si cerca e ha firmato il nuovo regista Burrai il Pordenone sta mettendo pian piano tassello su tassello la squadra che il prossimo anno dovrà riprovare la scalata la serie B che quest'anno è fallita soltanto ai playoff incontrando il Pisa che poi pur non essendo la favorita principale ha battuto ha sbaraiato la concorrenza ha battuto sia il Pordenone che il Foggia e è andato in diritto in sedie B all'interno ancora per quanto riguarda il mercato si parla dell'ondata dei tagli Udinese che ha una rosa sempre molto ampia ad inizio stagione poi il direttore sportivo lavora per sistemare quelli che non potranno avere spazio per tante ragioni questo non vuol dire che siano giocatori non da Udinese ma è chiaro che le rose hanno un numero ben definito e bisogna seguire seguendo anche le indicazioni dell'allenatore un criterio per tenere a Udine chi realmente può essere in grado di dare una mano all'Udinese per gli altri c'è sempre possibilità di prestiti per mettersi in mostro e poi tornare di nuovo utili in futuro per Val di Fiore e Giardino invece si parla di trattative che sono al rush finale e sono ore decisive anche per Zapata che come abbiamo detto potrebbe restare quindi il mercato dell'Udinese è tutt'altro che fermo ci si sta muovendo in tutte le direzioni Gazzetta dello Sport per tornare a parlare di nazionale è evidente che il quotidiano maggior quotidiano sportivo nazionale oggi pubblichi una prima pagina tutta o quasi dedicata all'Italia con una maglia azzurra riprodotta al centro della pagina con un titolo che è semplicemente voglia di Italia a San Denis ora 18 ci aspetta la Spagna favorita la Spagna favorita con Conte che dice non siamo comparse si può fare der pelle per stupire l'onda azzurra e la fiducia di Buffon con noi soffrono sempre e chi vince trova i tedeschi c'è il commento di Enrico Sacchi che con la nazionale ha giocato una finale mondiale negli Stati Uniti contro il Brasile nel 94 da 22 anni non sconfiggiamo la Spagna in partiti ufficiali sono i campioni d'Europa in carica dominano con i loro club in Europa e nel mondo sembra una situazione impossibile ma a tutto c'è una fine questo potrebbe arrivare stasera per opera degli orgogliosi azzurri di Conte siamo in svantaggio ma se ripartiamo possiamo far male questo è il titolo del commento di Enrico Sacchi da quest'altra parte la super sfida le mosse tattiche c'è da Arginari il genio di Iniesta ci difenderemo ma non bisogna farlo troppo indietro il ruolo di Jack che sarebbe Jack Edini e Parolo gli ottavi di ieri Griezmann Re Blu la Germania fa paura il Belgio vola segna 4 gol il francese con una doppietta rimonta l'Irlanda Draxler e Hazard danno spettacolo questa è la situazione delle partite di ieri e poi molto bello quello che ha fatto la Gazzetta circondando questa maglia azzurra con tutte le foto che sono arrivate in redazione con alcune delle foto perché immagino che siano state diverse migliaia accogliendo l'appello della Gazzetta come vedete sono tutti quanti qui i tifosi che si che hanno indossato la maglia azzurra bambini ma anche ma anche animali qui c'è un simpaticissimo cane con la maglia azzurra addosso poi cappellini tricolori insomma un po' di tutto per testimoniare che anche noi abbiamo il nostro tifo che può può dare deve dare una grossa mano foto che testimonia la passione anche di vecchia data qui vediamo per esempio un tifoso una partita non recentissima con una maglia che non è una delle ultimissime della nazionale quindi tutti insieme per battere la Spagna in questi ottavi di finale degli europei di Francia 2016 tutto sport anche in questo caso la prima pagina è dedicata alla nazionale spazio per Antonio Conte ed il suo agghiacciamoli partendo dal famoso agghiacciante ore 18 contro la Spagna per cancellare l'onta del 2012 e meritarci la Germania poi furie rosse no azzurre Conte carica l'Italia dice sento tanto parlare della nostra difesa ma noi vogliamo attaccarli per compiere l'impresa non vogliamo tornare a casa anzi anche il Belgio era favorito ed Italia lo ha battuto a proposito degli altri ottavi i tedeschi volano con Super Draxner Merci Griezmann Batswai vai Belgio da quest'altra parte di spalla scorriamo velocemente le altre notizie che in questo caso sono di mercato ecco Alvesh è tirato a lucido per Allegri è arrivato a Torino e per lui subito le visite mediche quest'oggi poi la firma in vacanza ha lavorato per presentarsi con due chili in meno in bianco nero Scintilla al Milan Brocchi si ribella a Galliani si è stufato evidentemente vorrebbe capire qual è il suo futuro un Milan che a pochi giorni dalla ipotetica partenza della nuova stagione più che ipotetica dalla partenza della stagione bisognerà cominciare a fare ritiro a preparare la squadra non sa ancora cosa succederà avanti oltranza tra l'Inter e Candreva c'è una differenza di 5 milioni poi affare con la Roma Atalanta e Bologna e sfida per Iturbe che attualmente è in forza al campionato di Premier League e poi si parla anche di altri sport intanto qui abbiamo anche il riscatto di Barreca da parte del Torino vai tocca a te con Cairo che riprende il giovane dal Cagliari moto mondiale ad Assen disastro per gli italiani ai ai Rossi mondiale addio una caduta con un brutto errore riconosciuto da Rossi ha detto è stato un mio errore andavo troppo veloce in quel tratto e sono caduto adesso la distanza da Marquez il capo classifica diventa difficile da recuperare ma con il dottore non si sa mai poi si parla di Wimbledon via Andy Murray sorvegliato da Ivan Lendl l'ex grande campione della loro cecoslovacchia difendeva i colori della cecoslovacchia quando ancora non c'era stata la scissione e qui abbiamo il tennista Murray che sente il peso del Brexit e questa è la prima pagina del tutto sport con la quale chiudiamo la nostra assegna sono le 8 in punto vi lascio ad una breve pausa e poi all'approfondimento curato da Monica Nardini arrivederci